Andrea Eppening del volontariato conclusa la prima tappa della festa itinerante dell'impegno solidale. Sono state ben 33 le associazioni di volontariato che hanno intrattenuto i visitatori con le presentazioni delle loro attività, esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. L'evento si è aperto con il convegno, solo uno sguardo gratuito può ridestare la persona, svoltosi presso l'istituto scolastico Lotti di Andrea. Perché è importante secondo lei organizzare incontri di questo tipo? È importante perché innanzitutto è un momento di promozione per le associazioni di volontariato del territorio, ma soprattutto per promuovere la cultura della solidarietà. Molti ragazzi, parlo di questo momento che faremo a breve, ma come molti persone adulte che stasera visiteranno gli stand delle associazioni di volontariato, sono ben lontani da questa cultura. Non che le associazioni lo siano, sia chiaro, però le associazioni attraverso le opere che fanno, le attività che svolgono, sono educate alla gratuità. Non dobbiamo nascondere indietro un dito, abbiamo visto sotto i nostri occhi ogni giorno che cosa succede quando dal cuore dell'uomo perde la gratuità e la solidarietà. Che funzione ha il volontariato nella nostra società? Ha una grande funzione perché tanti problemi, soprattutto moderni, si risolvono con l'amore, si risolvono con la misericordia, direbbe il nostro Papa. Pertanto il volontariato ha veramente una funzione fondamentale, essenziale, bisogna favorirlo sempre di più. Oggi esiste un fenomeno, il fatto che molto spesso ci si avvicini al terzo settore per poi trovare una prospettiva lavorativa. In questo modo, secondo lei, non viene snaturato il valore dell'associazionismo? No, secondo me no. Bisogna sempre stare attenti, come in tutte le cose, non solo nel volontariato, ovunque. Però non è che perché alle volte nel volontariato si percepiscono anche un compenso, venga meno il valore del volontariato. Dipende tutto dalla motivazione con cui si fanno il lavoro. Quindi da un certo punto di vista è anche sbagliato distinguere volontariato e non volontariato, profit e no profit. Dipende tutto dalla motivazione. Preside, perché l'Istituto Lotti Umberto I decide di supportare questo tipo di iniziative? Perché è nella sua offerta formativa e consapevole di lavorare in un contesto molto problematico dal punto di vista dell'uso delle sostanze stupefacenti e cerchiamo di portare delle testimonianze di ragazzi che ci sono passati e quindi possono, con un linguaggio dei giovani, parlare ai giovani. E' anche un modo per fare scuola e per cercare di, come dire, fidelizzare questi ragazzi ai valori veri e autentici della vita.